Un cordiale buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Andrea Biagioni e partiamo come al solito dalla 1 dove si registrano ancora code a tratti tra Firenze Scandicci e il Vivio con la variante del Valico a causa del traffico intenso in direzione Bologna, code a tratti anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud e tra Fabro e Valdarno sempre a causa del traffico intenso ma in direzione Firenze. Infine da segnalare rallentamenti tra Roncobilaccio e Aglio ancora in direzione Firenze. Sul raccordo Sena-Firenze si ricorda dello scambio di carreggiata a causa di lavori tra San Casciano e Impruneta in direzione Firenze e chiudiamo con il traffico aereo e il volo Lufthansa diretto da Pisa a Monaco con partenza prevista alle 16.55 è stato cancellato. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!